Ciao, mi trovo a Gerusalemme e ho trovato la Papa Mobile D.J. Marlin! D.J. Collin! Guarda che borsetta speciale Sfumature del mio lavoro Ovviamente ci sono tante sfumature del mio lavoro, però questo è il succo Principalmente consiste nel riuscire a parlare di qualcosa senza annoiare le persone che stanno guardando quel qualcosa Per tutti coloro che mi dicono che sono strabico, io dico può essere, è vero, ma in realtà è una questione di prospettiva Perché se guardo lontano col cellulare vicino agli occhi divento sempre più strabico, vedi? Sfumature del mio lavoro La storia di prima è dedicata a tutti coloro che ancora si chiedono quale sia il mio lavoro e il mio lavoro è questo Catturare l'attenzione delle persone e venderla E tutti coloro che mi dicono che il mio lavoro non è un vero lavoro, che è facile, che è banale, che non è niente Dico, è vero, potete farlo anche voi, se è così Oppure... Dietro ci tengo a dirti che sono qui con il vero Luis Sal È morto pochi minuti fa, tu sei il primo a saperlo Fai un saluto? Saluto! Ciao! 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 Grazie a tutti.